Con noi lo stanno già facendo per far applicare, far rispettare le regole di distanziamento in tutte le attività economiche, in tutte le attività sociali. E' per questo che le abbiamo coinvolte e che hanno già elaborato protocolli che insieme alle linee guida nazionali serviranno a garantire a tutti noi condizioni di sicurezza per tutte le attività che svolgeremo in questa fase 2. Stiamo affrontando un rischio calcolato. Nella consapevolezza anche, lo dico molto sinceramente, che la curva epidemiologica potrà tornare a salire. Guardate, i nostri principi rimangono gli stessi. Sono i nostri valori. Quindi, primo tra tutti, la tutela della vita, della salute dei cittadini. Sono principi e valori non negoziabili, ma li dobbiamo declinare diversamente in questa fase 2. Stiamo affrontando questo rischio e dobbiamo accettarlo. Altrimenti non potremo mai ripartire. Dovremmo aspettare il momento della scoperta e della distribuzione del vaccino. Non ce lo possiamo permettere. Ci ritroveremmo con un tessuto produttivo, sociale, fortemente danneggiato. Adesso vi illustro i principali contenuti del nuovo decreto legge e del nuovo DPCM. Dal lunedì ci si sposterà all'interno della regione senza nessuna limitazione. Quindi via alle autocertificazioni. Questo significa uscire di casa senza più dover giustificare le ragioni dello spostamento. Si potrà andare dove si vuole. In un negozio, in montagna, al lago, al mare. Riprende anche la vita sociale. Riprendono gli incontri con gli amici. Rimane però naturalmente il divieto di uscire di casa per chi è positivo al virus, per chi viene posto in quarantena. Rimangono anche limitazioni per chi ha sintomi riconducibili al Covid-19 e dovrà rimanere a casa. Resta il divieto di creare assembramenti di persone in luoghi pubblici. In questa fase bisognerà comunque rispettare la distanza di un metro e anche raccomandiamo di portare sempre con sé la mascherina, che peraltro va indossata obbligatoriamente in alcuni specifici luoghi. E in ogni caso raccomandiamo sempre di indossarla al chiuso o anche all'aperto nell'eventualità. Immaginate una strada particolarmente affollata in cui vi sia il rischio o l'impossibilità di rispettare le distanze. Da una regione a un'altra ci si può spostare per i motivi già noti. Esigenze lavorative, assoluta urgenza, motivi di salute. Questi spostamenti interregionali rimarranno limitati sino al 3 giugno. In prossimità di questa scadenza valuteremo insieme, col conforto dei nostri esperti, se i dati continueranno ad essere incoraggianti, potremo quindi anche, nella prospettiva positiva, tornare a muoverci in tutta Italia, da una regione all'altra, senza limitazioni. Sempre dal 3 giugno sarà possibile spostarsi anche all'interno degli Stati e dell'Unione Europea, senza obbligo di quarantena per chi arriva in Italia. Questo favorirà, creerà le premesse per una ripresa anche del turismo. Per quanto riguarda le attività economiche e le attività sociali, dal lunedì 18 maggio riaprono i negozi di vendita al dettaglio, immaginiamo ad esempio i negozi di abbigliamento e tanti altri, tutti i servizi, le attività legate alla cura della persona, parrucchieri, barbieri, centri estetici, riaprono anche ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, pav, il tutto però a condizione che le regioni accertino che la curva epidemiologica sia sotto controllo e adottino protocolli di sicurezza. La stessa cosa vale per gli stabilimenti balneari. Riprendono anche le celebrazioni liturgiche. Abbiamo fatto un grande lavoro insieme con la CE, con la Chiesa Cattolica e le altre confessioni religiose. Ovviamente bisognerà rispettare le misure anticontagio stabilite nei vari protocolli. Riprendono anche gli allenamenti degli sport di squadra, quindi anche gli allenamenti del calcio. Riaprono anche i musei, sempre però con il rispetto delle prescrizioni di sicurezza. Dal 25 maggio abbiamo programmato la riapertura di palestre, piscine, centri sportivi, anche questi con protocolli di sicurezza. Dal 15 giugno riaprono teatri, cinema e anche dal 15 giugno sarà a disposizione dei nostri bambini un ventaglio di offerte varie a carattere ludico-ricreativo e qui devo ringraziare ancora una volta gli enti locali per aver collaborato proficuamente all'elaborazione di questo ventaglio di attività e di offerte. Anche in questo caso, attenzione, le regioni saranno sempre libere, assumendosene la responsabilità, di ampliare queste misure o se è del caso di restringerle. Tutte le attività commerciali e di ristorazione dovranno attenersi a linee guida, protocolli di sicurezza saranno validi per i titolari, lavoratori, clienti, consumatori. Servirà cautela, attenzione da parte di tutti e in particolar modo per quelle regioni, penso alla Lombardia, che sta combattendo la battaglia più dura. si trova nella fascia del rischio moderato, presenta ancora un livello alto di saturazione delle terapie intensive, sebbene in discesa. Particolare attenzione abbiamo dedicato anche alle persone con disabilità. Abbiamo previsto per loro qualche specifica misura per il distanziamento sociale, favorendo ovviamente l'ausilio e l'intervento di propri accompagnatori. Stiamo procedendo alla riapertura delle attività economiche e produttive con gradualità, con prudenza. Io sono consapevole che per alcuni settori riapertura non significherà ripresa economica, rilancio degli affari, le difficoltà economiche, il disagio sociale non scompariranno di colpo una volta riaperti. Faccio un esempio negozi, bar, ristoranti, esercizi vari, anche studi professionali. Nei giorni scorsi ho letto anch'io per strada, ho incrociato spesso un cartello sulle saracinesche dei negozi chiusi. Senza aiuti non potremo riaprire. Ho ricevuto tante lettere. Sono consapevole che il decreto rilancio, nonostante una cifra considerevole, 55 miliardi, non potrà essere la soluzione di tutti i problemi economici, sociali che stiamo vivendo. Però stiamo dando una mano a chi deve ripartire. Pensiamo ad esempio a coloro che hanno fatturato sino a 5 milioni di euro attraverso il meccanismo del ristoro che offre al singolo negoziante, commerciante, una cifra che va da 2.000 sino a 40 euro con taglio dell'IRAP, della TOSAP. Con questa manovra noi gettiamo un ponte per affrontare l'urto, l'impatto, contenere l'impatto di questa crisi. Abbiamo introdotto misure anche importanti per costruire il nostro futuro. Penso ad esempio alle misure stanziate per scuola, università, ricerca. E' un'emergenza questa molto pesante. Ci sta assorbendo, sta assorbendo a tutti grandi energie economiche, fisiche, anche morali. Ma non è questo il momento di riprendere fiato. Non ci possiamo permettere di fermarci. Adesso più che mai dobbiamo correre e far correre la nostra economia, l'economia del nostro Paese. Adesso ci dedicheremo nelle prossime ore, senza tregua, ci dedicheremo al decreto sulle semplificazioni e contemporaneamente lavorerò al piano europeo dei nuovi strumenti finanziari per questa emergenza. Con il decreto sulle semplificazioni l'obiettivo è molto chiaro. Rendere più rapidi, più trasparenti alcuni passaggi dei vari procedimenti amministrativi in modo da accelerare a costo pressoché zero la crescita economica sociale. Subito dopo inizieremo a programmare interventi di più ampio respiro investendo sull'Italia che vogliamo, un'Italia che nel nostro progetto politico è molto chiara, è un'Italia più verde, più digitale, più inclusiva. Grazie a tutti. Inizia Mediaset con Laura Cannavò, prego. Buonasera Presidente, è la prima conferenza stampa dopo tanto tempo con i giornalisti presenti, non sono presenti i giornalisti dell'ANSA, è un modo così che rilevo, è un fatto che rilevo per mettere l'accento sulla crisi dell'editoria in un momento in cui l'informazione è così importante. La domanda che volevo farle comunque è questa, oggi il Partito Democratico nel suo vicesegretario ad ombra delle pesanti minacce sul governo dice che ci sono centri economici e di informazione che impuntano a far cadere questo governo nonostante appunto quello che lei ha appena illustrato e dice che c'è l'interesse a gestire questi ingenti flussi di denaro che arrivano appunto che voi avete messo in campo 55 miliardi di euro e mette anche dei paletti il Partito Democratico alle aziende che chiedono prestiti dice che devono riportare la loro sede finanziaria in Italia. Lei visto appunto che vengono dal partito che sostiene la sua maggioranza come risponde cosa pensa di questo? Grazie. Beh se leggiamo anche quotidianamente i giornali si legge spesso di tentativi di dare qualche spallata qualche spallata di qui a destra a sinistra al governo ora a parte quello che chiamo anche un po' il chiacchiericcio dei giochi politici noi dobbiamo concentrarci sugli obiettivi che abbiamo davanti li ho sinteticamente nucleati adesso abbiamo un decreto semplificazioni poi dobbiamo lavorare al piano europeo e dobbiamo progettare la ripresa a pieno regime del nostro paese non possiamo consentirci lasciarci distrare sicuramente stanno arrivando cospicui finanziamenti ma noi confidiamo di poter avere l'appoggio di tutte le forze sane del paese di tutti coloro che hanno senso di responsabilità e sono la stragrande maggioranza dei cittadini degli esponenti delle istituzioni degli esponenti dell'associazione di categoria noi questo percorso che stiamo facendo lo stiamo facendo insieme a loro io voglio ringraziare tutte le parti sociali tutti gli esponenti delle associazioni di categoria tutti gli esponenti sindacali perché non vi sarà sfuggito che ormai da un po' di tempo in particolare in questa fase emergenziale e parlo anche degli enti locali stiamo tutti pur con qualche delle volte qualche piccola polemica però quando arriva il momento in cui bisogna concentrarsi siamo tutti votati a conseguire questo risultato lancio anch'io un appello e soprattutto un partecipe pensiero a tutti i lavoratori ai giornalisti dell'ANSA che le ha menzionato si sono varie testate in difficoltà ovviamente in questa fase ovviamente anche loro sono attività imprenditoriali assoggettate alle ristrettezze vivono le difficoltà economiche sociali di questo momento qualche misura l'abbiamo introdotta nel decreto rilancio cercheremo di prestare attenzione perché è chiaro che siamo molto sensibili e poi in particolare alla libera informazione c'è RTL 125 con Alberto Ciapparoni prego buonasera presidente lei voleva chiedere questo il governo insieme alle regioni con il decreto e con il DPCM ha dettagliato ogni minimo quasi ogni minimo comportamento di noi cittadini però non mi sembra che ci sia un programma di test tracciamento trattamento cioè i tre elementi che dalla comunità scientifica sono considerati cardine per una ripartenza effettiva magari senza rischio di ricaduta ad ottobre ci avete mai pensato e come mai non avete adottato questa strategia che è chiamata e nota come strategia delle 3T seconda brevissima domanda invece sulla questione delle mascherine perché oggi il commissario all'emergenza Arcuri ha annunciato l'aumento della fornitura delle mascherine per le farmacie però al netto di questo annuncio la questione è una di quelle su cui c'è ancora un po' di confusione quelle a prezzo calmerato sono a tutt'oggi introvabili e in qualche modo la questione sicuramente rientra tra le competenze principali del commissario all'emergenza secondo lei Arcuri in qualche modo è venuto meno a uno dei suoi compiti principali e quindi deve fare un passo indietro oppure no grazie guardi innanzitutto non è vero che non stiamo perseguendo le strategie anche per quanto riguarda i test e che lei ha citato il monitoraggio anzi come sapete il ministero della salute e il ministro speranza ha elaborato una strategia in cinque punti e il punto che lei ha menzionato è centrale in questa prospettiva quindi sono stati acquistati dei test per 150.000 persone verranno individuate dall'Istat e dall'Inail e siamo disponibili ad acquistarne altri 150 credo che ci sia già la predisposizione per ulteriori acquisti quindi stiamo lavorando anche in questa direzione poi partirà nei prossimi giorni adesso non voglio dirvi la data esatta ma abbiamo fatto proprio una riunione l'altro giorno e mi hanno confermato nei prossimi giorni partirà la sperimentazione dell'app Immuni quindi stiamo lavorando su tutte queste direzioni con test sierologici con test ovviamente molecolari con i tamponi chiaramente per raggiungere un campione significativo della popolazione occorre del tempo non è una cosa che si fa domani mattina ma ci insegnano gli esperti che già con questi numeri inizieremo a avere diciamo il conforto di numeri molto indicativi per quanto riguarda Arcuri io prima di valutare il suo operato la inviterei a porsi nelle sue condizioni a ripercorrere quindi al suo punto di vista il lavoro che ha dovuto fare dall'inizio quando in tutto il mondo si è scatenato una pandemia e io vi posso assicurare ricordate che i primi giorni ero anch'io alla protezione civile per rendermi conto di persona di come stavano le cose era pressoché impossibile trovare in giro per il mondo un ventilatore era pressoché impossibile procacciarsi una partita di mascherine quello che ha fatto Arcuri i numeri parlano chiaro e sono numeri trasparenti sono pubblicati sul sito della protezione se lei ritiene di poter far meglio la terrò presente spero che non possa succedere però scherzi a parte è veramente un impegno è stato un impegno faticoso non sottovalutare assolutamente la qualità del suo operato Sky TG24 con Massimo Leoni prego questa per la prima volta oggi comprata a prezzo calmierato comunque esistono diciamo qualche parte Presidente volevo farle parlare un po' degli insegnamenti che ha tratto da questo periodo un paio in particolare se c'è bisogno nell'ordinamento anche costituzionale di riformare il rapporto tra lo Stato e le regioni se c'è bisogno di una politica industriale e in generale economica che spinga le imprese italiane a dimensioni più grandi perché forse avrebbero e potrebbero reggere meglio impatti di questo tipo e poi una domanda più specifica quando ci sarà l'incontro con il Presidente della Federcalcio Gravina e che cos'è che separa ancora la possibilità di riprendere il campionato e come il suo personale personalissimo pensiero su questo grazie in effetti sono tre domande la prima sono tutte molto impegnative almeno la prima riformare e quindi se c'è da riformare qualcosa nel rapporto tra Stato e Regioni grande tema che appassiona i politici e responsabilizza tutti a fare una riflessione sicuramente questa emergenza quando completeremo usciremo dall'emergenza dovremo fare una riflessione perché è chiaro che un assetto ordinamentale come questo nel gestire un'emergenza di questo tipo denuncia di per sé oggettivamente delle difficoltà delle farraginosità immaginate se non funzionasse se non ci fosse leale collaborazione tra Stato e Regioni immaginate se non ci fosse Stato a parte del Governo o dei Presidenti delle Regioni degli enti locali questa disponibilità da andare oltre le polemiche è chiaro che è un assetto che deve registrare qualche manutenzione io non sono nella condizione di formulare e ne voglio adesso concentrarmi su possibili proposte ma sicuramente passata l'emergenza sarà giusto fermarsi a riflettere in modo pacato in modo sereno e cercare di valutare con tutte le forze politiche in un dibattito pubblico se si può migliorare qualcosa nell'ambito di questo riparto di competenze soprattutto per eventualità del genere per quanto riguarda la politica industriale le dico è chiaro che dobbiamo intervenire intervenire per due aspetti soprattutto ce ne sono tanti ma ne individuo due la nostra forza in Europa è il tessuto delle piccole e medie imprese è la nostra forza piccolo e bello ma certo se questo piccolo si consolida io dico ancora più bello quindi la prima cosa è consolidare questi organismi produttivi spesso piccoli o medi e cercare quindi di favorirne la capitalizzazione nel decreto rilancio quando poi adesso lo leggerete con più attenzione avrete la possibilità di leggere con più attenzione vedrete che soprattutto nel tessuto delle piccole e medie imprese ci sono tante agevolazioni ma veramente così tante che non credo a mia memoria siano state mai cumulate in uno stesso decreto tante agevolazioni per la ricapitalizzazione per favorire il consolidamento dell'organismo produttivo e così è quella la strada per essere più competitivi nel mercato interno e nel mercato globale e poi ovviamente dobbiamo difendere i nostri campioni questo non significa un piano di collettivizzazione dei mezzi produttivi di sovietizzazione ma dobbiamo tenerci pronti soprattutto in questa fase poi emergenziale con tutte le difficoltà le conseguenze negative che impattano anche sulle medie e grandi imprese ha degli interventi mirati di sostegno e di rilancio questo non significa che lo Stato deve intromettersi nella governance ma sicuramente anche solo per un periodo transitorio lo Stato può e deve intervenire e d'altra parte questo famoso temporary framework che è stato elaborato dalla Commissione Europea e nasce proprio dalla consapevolezza che in questo momento è un momento storico in cui lo Stato ha l'obbligo ha il dovere di intervenire anche attivamente per sostenere le imprese in difficoltà per quanto riguarda il campionato di calcio ci sono tantissimi appassionati è un tema che riceve tantissime sollecitazioni il Ministro Spatafora è un Ministro che sta seguendo con grande attenzione il mondo dello sport è molto responsabile come tutto il governo quindi bisogna prima capire e aspettare che si realizzino le condizioni per poter garantire la ripresa del campionato non solo di calcio noi parliamo solo di calcio sono tutti gli altri campionati in condizioni di massima sicurezza per fare questo per avventurarsi a fare una data bisogna avere qualche garanzia in più che in questo momento parlando con il Ministro Spatafora in questo momento non c'è speriamo che sia l'inizio quanto prima Sergio Bonini di Rai News 24 Buonasera Presidente Buonasera anch'io mi associo con come è fatto dalla collega a esprimere la solidarietà come giornalista per i giornalisti e le giornaliste della Rai ai colleghi dell'ANSA della Gazzetta del Mezzogiorno di tutte le realtà editoriali che sono in crisi come rimarcato dal sindacato Usigrai io vorrei sottoporre una domanda politica quanto attiene la richiesta di collaborazione la mano tesa le forze politiche che naturalmente politicamente include anche le opposizioni quelle stesse opposizioni che però organizzano per il 2 giugno festa della Repubblica quindi data simbolica fortemente simbolica una piazza contro il governo altro fronte emergono in queste ore difficili dal punto di vista della tenuta economico sociale del paese come lei ha rimarcato storie di usura che vedono minacciati i nostri concittadini alcune sventate alcune denunciate perché avvenute ecco a queste storie di grande difficoltà quali possono essere risposte le garanzie le premesse le promesse del governo grazie presidente guardi mi associo anch'io non ho menzionato in effetti prima non abbiamo menzionato la gazzezza del mezzogiorno mi fa piacere che lei abbia ricordato anche questa gloriosa testata che poi siccome è collocata a sede del mezzogiorno che non è una regione facile diciamo un territorio facile quindi anche a loro va il nostro il mio partecipe mi associo il mio partecipe la mia partecipe solidarietà per quanto riguarda le forze politiche per carità siamo in situazioni di distanziamento ma cercheremo di assicurare col DPCM la possibilità anche di manifestazioni con regole di distanziamento manifestazioni statiche con regole di distanziamento quindi se ci sono opposizioni che ritengono di dover manifestare in questo momento sono liberisti non mi permetto di sindacare le loro iniziative per quanto mi riguarda io sono stato qui li ho accolti tanti gli esponenti dell'opposizione li ho accolti tante volte credo con spirito di reale sincera collaborazione sono andato molto spesso in Parlamento mi avete visto spesso ci andrò credo all'inizio della settimana prossima come è giusto che sia io sono lì ascolto parlo ma ascolto anche molto fino alla fine non vado mai via dopo aver parlato attendo che completino tutti gli interventi anche delle opposizioni e le assicuro che delle volte anche dalle opposizioni da qualche intervento non sempre lo dico molto francamente ma da qualche intervento ci sono anche degli stimoli a far meglio questa è la mia filosofia per quanto riguarda la criminalità e l'usura è una grande preoccupazione una grande preoccupazione perché in una situazione di grandi rispettezze economiche di grandi difficoltà è chiaro che la tentazione il rischio di cadere nelle mani di circuiti criminali di malaffare dell'usura è grande per tanti che non riescono ad accedere a forme di finanziamento lecito un grande cruccio per me e per tutto il governo è questo decreto di liquidità guardi stiamo monitorando i flussi stiamo interloquendo con i vertici abbiamo predisposto e non ci rassegneremo abbiamo predisposto a una cospigua garanzia dello Stato proprio per favorire l'erogazione di liquidità adesso l'ho detto prima nel decreto rilancio ci sono varie forme anche di contributi a fondo perduto è chiaro è chiaro che queste somme devono entrare nelle tasche dei cittadini ecco perché è anche importante il decreto semplificazioni in questo decreto che abbiamo approvato quello economico rilancio abbiamo già semplificato qualche passaggio che è emerso come critico ci rendiamo conto però vorrei anche dire ai cittadini che la riforma il taglio della burocrazia è la riforma forse più difficile da realizzare perché in tanti l'hanno voluta realizzare io spero davvero che tutto tutti i cittadini ci daranno la forza ci sosterranno per superare le resistenze a parole tutti condividono l'obiettivo quando si inizia a lavorare si inizia a sottrarre qualche competenza si inizia ad abbreviare un termine per un'autorizzazione si inizia a individuare un permesso come superfluo si crea un circuito di resistenza incredibile ma noi abbiamo la testa dura credo che ci riusciremo e vogliamo riuscirci fan page Marco Billecci prego dunque i dati sul monitoraggio che citava lei e che dovrebbero essere alla base delle decisioni sulle riaperture sono stati resi pubblici poco più di un'ora fa sappiamo che molte regioni hanno mandato dati incompleti o in ritardo mentre le decisioni di riaprire in realtà sembrano che siano state prese da giorni da giorni si parla ormai di decisioni già prese sulle riaperture allora le chiedo su che dati ci si sta basando per riaprire su quei dati altra cosa lei ha citato lei stessa il fatto che la Lombardia ma non solo la Lombardia dai risultati di quel monitoraggio risulta con un rischio ancora moderato il decreto del ministero della salute che istituisce quel meccanismo dice che con rischio moderato non c'è un automatismo sulla ripartenza ma anzi ci deve essere un supplemento di riflessione allora le chiedo il governo si prende la responsabilità di dire ai cittadini che su tutto il territorio nazionale in questo momento il rischio è sufficientemente contenuto compreso in Lombardia per permettere di procedere con le riaperture l'ultima cosa se come lei stesso ha ricordato ci fosse bisogno speriamo di no ovviamente di procedere a nuove chiusure anche a livello locale il governo si prenderà la responsabilità di imporre queste chiusure se le regioni non agiranno per evitare casi anche come quelli della zona rossa ormai famosa purtroppo di Alzano e Nembro dove l'impallo di responsabilità ha ritardato probabilmente la chiusura grazie mille è stato presentato questo piano nazionale di monitoraggio è molto sofisticato non mi risulta che in altri paesi abbiano fatto un lavoro del genere così articolato abbiano un sistema così puntuale e anche questo l'ho detto io stesso nel mio intervento iniziale è anche questo piano che ci permette di affrontare con fiducia ma anche con responsabilità questa fase 2 altrimenti sarebbe stato irresponsabile disporre già dal 4 maggio la riapertura per la manifattura per le costruzioni 4 milioni e mezzo di lavoratori nelle fabbriche nei luoghi di lavoro e lunedì prossimo riapertura dei negozi servizi alla persona bar ristoranti e via discorrendo però dobbiamo intenderci io sono stato molto chiaro con i presidenti delle regioni e il decreto legge e il DPCM è molto chiaro qui non c'è nessuno scarico di responsabilità non dobbiamo giocare non si gioca in una fase del genere in una fase di emergenza allora noi abbiamo predisposto un piano articolato ci sono una ventina di parametri quindi quando lei ragiona di rischio moderato non si fermi solo a quello ci sono tanti parametri che alla fine ovviamente danno dei risultati e delle tabelle in questo momento io l'ho detto nel mio intervento è chiaro che la Lombardia è tra quelle regioni attualmente che sta affrontando una prova più difficile rispetto alle altre quindi consiglio a tutti i lombardi di essere particolarmente attenti di fidare anche nel principio di autoresponsabilità di autoprotezione ecco perché dicevo stiamo attenti le misure di distanziamento sociale comunque sono importantissime portare sempre a presso una mascherina uno può anche pensare di non dover prendere un autobus di dover fare una passeggiata poi si trova di colpo in una via affollata tira fuori la mascherina per quanto riguarda però il rapporto tra Stato e Regioni noi in questo momento non abbiamo un motivo per dire alla Lombardia non apre la Lombardia perché non è quella fascia quella che giustifica la chiusura quindi la Lombardia può tranquillamente facendo proprie valutazioni in termini di responsabilità decidere di aprire come ogni regione però non parliamo solo della Lombardia ogni regione per in base al decreto legge che abbiamo provato ha la possibilità di introdurre misure ampliative o restrittive è chiaro che lo Stato ha con questo piano nazionale anche una funzione di vigilanza e coordinamento se dovessimo valutare che la curva epidemiologica dovessimo verificare che la curva epidemiologica è salita e scappa dal controllo certo che siamo pronti a intervenire lo farà sicuramente responsabilmente il presidente della regione Lombardia Fontana che è una persona responsabile ma in ogni caso per il meccanismo normativo che abbiamo predisposto c'è una clausola di salvaguardia che consente a noi il governo di intervenire e non mi sembra non mi sembra che questo governo non abbia assunto la responsabilità di decisioni anche molto severe e restrittive sono stato tacciato di essere dittatore paternalista di essere liberale quindi mi sembra che la faccia quando ci sia un'assunzione di responsabilità questo governo la metta sempre Agenzia Nova Livio Cipriano prego Buonasera presidente sempre nell'ambito delle misure di bilancio economico il governo ha preso in considerazione l'ipotesi per esempio presentata dall'ex ministro dell'economia Giro Tremonti delle emissioni di titoli cosiddetti patriottici a lunga scadenza Guardi sulla mia scrivania ci sono varie ipotesi varie ipotesi per il rilancio dell'economia per diciamo creare maggiori risorse per correre far correre l'economia per perseguire quindi una crescita più sostenuta economica e anche uno sviluppo sostenibile tra le varie ipotesi ci sono anche la possibilità di emettere conosco questo progetto noi non escludiamo nulla adesso però il primo pensiero non mi faccio entrare nei dettagli ma il primo pensiero è sicuramente per il piano europeo degli strumenti finanziari dobbiamo lavorare lì e dobbiamo fare in modo che in particolare il recovery fund sia di dimensioni consistenti sia sganciato dai criteri tradizionali coesione e via discorrendo sia anche alla portata di mano nel senso che possa anticipare attraverso un bridge un progetto anticipato le disponibilità finanziarie che ci servono e ultimo abbia una cospicua parte non tutta me ne rendo conto ma una cospicua parte di doni attribuzioni diciamo così a fondo perduto piuttosto che invece dare maggior rilievo ai finanziamenti ecco questo è l'obiettivo principale per quanto riguarda il resto sono ben consapevole siamo tutti consapevoli che in Italia c'è un grande risparmio privato e sicuramente questa è una delle ragioni di forza di solidità della nostra economia ci sono tanti progetti e a tempo debito vedremo Marilena Vinci stasera Italia Rete 4 Buonasera Presidente lei poco fa ha detto di essere consapevole che la riapertura non basterà per la ripartenza delle aziende ha pensato alla possibilità di un anno fiscale bianco per far ripartire i consumi e l'economia Guardi di fatti nei fatti noi già concediamo tante agevolazioni fiscali lo abbiamo fatto col Cure Italia lo abbiamo fatto col decreto rilancio perché abbiamo differito fino a settembre inoltrato poi valuteremo tutti i vari i vari tributi le varie tasse e alcuni addirittura anche parlo del saldo del 2019 dell'IRAP l'abbiamo abbonato abbiamo anche introdotto una moratoria per tutti quanti i piani di ammortamento con le banche i finanziamenti quindi voglio dire ci siamo già mossi nella sua direzione poi è chiaro a me piacerebbe non un anno bianco fiscale due anni tre anni questo però significa evidentemente creare un grave ammanco nelle casse dello Stato non ce lo possiamo permettere ma quelle diciamo richieste quelle agevolazioni quegli sconti addirittura abolizioni o differimenti abbiamo già introdotti e direi anche in modo molto consistente ultima domanda Ilaria Capitani del Tg2 prego buonasera presidente è bello richiederla in carne ed ossa finalmente eccomi qua senta è un'emergenza che non concede tregua nel senso che tanti provvedimenti sono in corso d'opera e già il governo pensa agli ulteriori provvedimenti come il decreto semplificazione e poi la partita europea come ci ha ricordato quando verrà pubblicato sulla gazzetta ufficiale il decreto Cura Italia e anche il decreto rilancio al quale ovviamente è legato il sostegno economico concreto alle famiglie cittadini e imprese e a proposito dei sostegni economici presidente oggi si è tanto parlato di Fiat Chrysler i prestiti di Stato possono essere concessi anche alle aziende che non hanno sede in Italia come il caso di Fiat Chrysler e risulta una richiesta dell'FCA di un sostegno di oltre 6 miliardi Allora per quanto riguarda lei mi chiedeva i tempi cura Italia in sede di conversione quindi siamo in dirittura finale per quanto riguarda la conversione e per quanto riguarda invece il decreto rilancio confido che già domani vada in gazzetta ufficiale l'accordo politico è stato fatto la deliberazione c'è stata ma potete immaginare che soltanto per rivedere quei 250 60 articoli quel librone che sono due manovre finanziarie ovviamente i tecnici stanno lavorando quindi non c'è un problema di accordo politico i nostri tecnici e adesso ovviamente c'è la bollinatura in queste ore passa al MEF per la bollinatura finale io credo che già domani andrà in gazzetta ufficiale confido già domani per quanto riguarda poi lei ha posto un problema molto importante lei dice ma una nostra società che ha una capogruppo all'estero può beneficiare beh innanzitutto se ne può beneficiare è perché evidentemente risponde alle prescrizioni di cui ha il decreto quindi non stiamo parlando di privilegi concessi a qualcuno teniamo conto che nel caso di FCA stiamo comunque parlando al di là della capogruppo del diciamo delle società che sono a monte della catena le società sono in Italia sono fabbriche italiane lavoro italiano producono in Italia e occupano tantissimi lavoratori lavoratrici e lavoratori quello che però lei pone è un problema che guardi all'ordine del giorno lo affronteremo più specificamente nel decreto semplificazioni cioè effettivamente oggi le dico in breve c'è un problema anche di competizione tra ordinamenti quindi il problema non è se FC con io poi non voglio entrare nella logica dell'ingegneria societaria particolare però non dobbiamo porci il problema chi come sta in Inghilterra in Olanda o in altri paesi noi dobbiamo semplicemente rendere più attraente il nostro odiamento giuridico cioè dobbiamo porci il problema perché vanno all'estero c'è un diritto societario in Olanda più favorevole stiamo lavorando a questo stiamo introducendo delle modifiche societarie che andranno sicuramente nel decreto semplificazione per scongiurare questa maggiore competitività di altri addirittura altri paesi all'interno dell'Unione Europea che per me è inaccettabile ovviamente non c'è solo un diritto societario giudicato più attraente ci sono anche delle agevolazioni fiscali e il cosiddetto dumping fiscali non intendiamo più concedere questi vantaggi a nostri paesi diretti competitors stiamo lavorando a questo grazie a tutti buonasera grazie a tutti grazie a tutti